cari amici benvenuti o bentornati al taccuino del giovane cinefilo oggi proseguiamo la nostra dissertazione sul cinema di animazione interessandoci all'opera di gendy tartakovsky sono quindi dovute innanzitutto due parole sul suo primo lungometraggio hotel transilvania del 2012 il morandini pace all'anima sua se ne è andato alla veneranda età di 91 anni qualche giorno fa gli assegna due stelle su cinque declamando 3d insoddisfacente e buio per uno spunto buono realizzato con prolissità e gag che non fanno ridere troppo rumore e troppe urla il farinotti lo critica da tre stelle su cinque senza aggiungere nulla alla trama il merighetti infine con tre stelle su quattro si sofferma con maggior puntualità dice dopo una lunga e straordinaria esperienza televisiva tartakovsky realizza il suo primo lungometraggio per le sale un cartoon digitale divertentissimo pirotecnico e poetico distribuito anche in perfetto 3d il ribaltamento di ruoli su cui si basa è molto semplice i mostri fin troppo umani e gli umani a torto ritenuti mostri ma è anche straordinariamente inventivo un'unica visione non basta a esaurirlo e la quantità di idee geniali battute e gag contenute in ogni singola inquadratura è vertiginosa il che non va mai a scapito di una solidità narrativa che lo rende accessibile a più livelli dovete sapere poi che fra il marzo e l'ottobre 2014 mi ero prefissato di commentare succintamente ogni film che riuscissi a vedere avevo scritto timidamente due righe anche su questo lungometraggio vi riporto un breve estratto accanto ad un montaggio brioso e ad un apparato linguistico musicale molto pop la morale trova spazio in modo niente affatto grossolano senza in languidire a sproposito la vicenda i personaggi funzionano l'equilibrata e sicura regia del russo tartakovsky assicura risate e divertimento spensierato come avrete modo di capire a breve sono elementi che ritroviamo con gioia anche nel prodotto che dal titolo a questi appunti a tre anni dal primo brillante capitolo sony arriva sugli schermi il secondo lungometraggio del regista statunitense di origini russe specifichiamo lezione esemplare su come si possa superare la cosiddetta sindrome del numero 2 che non di rado riesce a trascinare nel baratro i più diversi progetti interessati da un incipit fortunato hotel transilvania 2 si pone con tale disinvoltura da essere in grado di rimescolare le carte vincenti del predecessore senza per questo risultarne essenzialmente debitore possiede infatti una propria autonomia un proprio originale sviluppo che accompagna i personaggi in un naturale processo di mutamento muovendo dagli stadi già raggiunti l'umano jonathan e l'unigenita figlia di dracula mavis si sono sposati e hanno procreato dando alla luce per la gioia somma di nonno drac un figlio maschio l'adorabile dennis denisovic nome prediletto dal conte la questione che si pone è duplice da un lato la scelta dell'ambiente migliore per la crescita del pargolo rossiccio la società degli uomini o il piccolo universo dell'hotel dall'altro la sua predisposizione o meno all'essere un vampiro così mentre la giovane coppia si concede un viaggio di riflessione dracula fa di tutto per dotare il suo amatissimo nipotino di due aguzzi canini nell'ardua missione milita la storica masnada che aveva animato con simpatico impeto le vicende di hotel transilvania resa contestualmente ancora più memorabile ecco quindi frankenstein il lupo mannaro wayne la corpulenta mummia murray l'invisibile griffin qui si aggiunge con deliziosa discrezione la montagna di gelatina verdastra blobby il fil rouge che lega ognuno di loro è l'ormai svanita capacità di operare secondo natura a nessuno viene più spontaneo spaventare i tempi sono cambiati il terrore lascia gentilmente carta bianca allo spasso le due stirpi una volta rivali ora convivono tessano fra loro relazioni sempre più intime qui si coglie lo straordinario contributo sociologico del film di tartakovsky si è di fronte ad un ritratto caricaturale del panorama tecnologico e culturale contemporaneo di efficacia folgorante in cui le gag demenziali di senderiana paternità ospitano senza forzature o malcelate intenzioni programmatiche una girandola di omaggi alle realtà digitali del terzo millennio come la spiazzante tempestività delle videochiamate e di youtube o anche semplicemente il vaio e l'applicazione di facebook utilizzati dagli zombie nella reception o di poco anteriori le pillole metacinematografiche in memoria di frankenstein junior e il fantasma dell'opera una schiettezza tanto spiccata caratterizza anche l'immancabile sfumatura moraleggiante dalla delicata rappresentazione della gestazione si origina un'emblematica divergenza di punti di vista sul futuro della prole il divario generazionale unitamente ai sogni ad occhi aperti nutriti dai familiari in età più avanzata concorrono ad una viziata interpretazione delle influenze che possano rivelarsi autenticamente positive per dennis il quale al contempo non sembra aver bisogno né di pupazzi che demistifichino la mostruosità delle specie che lo circondano né di addestramenti che con una certa presunzione vorrebbero riaffermare il supposto stato delle cose l'esposizione narrativa di nuovo è connotata da un coraggio non rinvenibile con simile facilità in altre produzioni animate anche in virtù della singolare forma di equilibrio che il regista riesce a doppiare impedendo l'identificazione di un baricentro prevedibile e inequivocabile scelta stilistica che indubbiamente gioca a favore del ritmo ed esalta le comicissime doti plastiche di ogni figura al di là di ogni verisimiglianza e cervellotica pedanteria neorealista voto al film tre stelle e mezzo su cinque gli incassi sono destinati a superare quelli del primo capitolo che era riuscito a rastrellare in tutto il mondo 358 milioni di dollari a fronte di un budget di 85 quest'anno i costi di produzione sono saggiamente rimasti più o meno invariati mentre ad altezza 21 ottobre gli introiti ammontano a 268 milioni ma appunto teniamo conto che rimangono ancora 18 stati fra cui la cina in cui non si è ancora visto niente la data di uscita giapponese infine non è ancora stata resa pubblica l'articolo su hotel transilvania 2 pubblicato su bliet magazine che suggerisco di seguire fosse anche semplicemente su facebook lo trovate linkato qui sotto se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al canale e alla pagina facebook del taccuino come indicato nella descrizione del video in appendice consiglio la visione di un film che ho avuto modo di gustare senza però trovare il tempo per commentarlo trattasi di suburra di stefano soldi ma a mio parere una di quelle opere che rendono onore e giustizia all'arte cinematografica made in italy vi ringrazio per l'attenzione grazie a tutti